Atena Lucana, sabato scorso, incontro sul lavoro nel Vallo di Viano tra i relatori l'onorevole Severino Nappi. Caggiano, cittadinanza onoraria a Cabirbedi dalla minoranza voto contrario, lo russo, mancano le motivazioni minime per la concessione dell'encomio. Montesano sulla Marcellana parte il servizio di isola ecologica itinerante. Polla dal 2 al 4 agosto la settima edizione di Restate Ragazzi. Sant'Arsenio in corso il campus musicale dei due volti della Luna. Buongiorno e bentrovati. Nell'ambito della manifestazione I Briganti del Terzo Millennio organizzata dall'Associazione Amici in Movimento, sabato scorso ad Atena Lucana si è tenuto un convegno sul tema del lavoro. Tra i relatori anche l'onorevole Severino Nappi, già assessore regionale al lavoro. È stata la tavola rotonda sul tema del lavoro nel Vallo di Diano e sulle opportunità occupazionali da sfruttare ed incentivare ad aprire l'edizione 2019 della manifestazione I Briganti del Terzo Millennio, promosso dall'Associazione Amici in Movimento e presieduta da Francesco Bellomo. Una due giorni di eventi in cui gli organizzatori hanno voluto integrare la natura con la cultura, un'occasione anche per discutere di temi di strettissima attualità su cui urge individuare soluzioni adeguate e concrete, come lo spopolamento dovuto alle scarse prospettive lavorative nel Vallo di Diano. Un tema che è stato affrontato con illustri relatori presso l'auditorium Cirillo di Atena Lucana Scalo sabato scorso, tra cui quello dell'onorevole Severino Nappi, professore ordinario di diritto del lavoro e già assessore regionale al lavoro, che ha spiegato come il Vallo di Diano alle potenzialità per creare un alto tasso di occupazione, in particolare se si investe energie e risorse in settori come agricoltura e turismo. Qui dobbiamo valorizzare i due grandi asset di questo territorio, che sono l'agricoltura, che sono l'artigianato, che sono le tradizioni e la capacità di modernizzarle. Quindi io ho lasciato una legge regionale sull'artigianato che valorizzava la formazione dei maestri artigiani e le botteghe scuola. Legge lì, basterebbe impiegare le risorse per dare l'opportunità di formare tanti giovani qui, con risorse a carico delle istituzioni, come dovrebbe essere giusto che si faccia, e ovviamente trasformare quello che oggi è precariato in lavoro stabile e garantito. Un investimento pubblico neanche notevole che però potrebbe cominciare a dare opportunità e ragione ai nostri giovani per star qui. Come nel tema dell'agricoltura, l'agricoltura non è una regina povera, è una grande opportunità. Delle potenzialità economiche di territori come questo, che abbandonati a se stessi sopravvivono, ma sostenuti dalle istituzioni possono fare la differenza non solo qui, ma anche rispetto al resto della regione. L'agricoltura e i suoi prodotti di qualità e di valore qui hanno solo bisogno di essere conosciuti, valorizzati, sostenuti. Quindi la rete costruita con degli investimenti pubblici può fare seriamente la differenza. Ad aprire i lavori, il presidente dell'Associazione Amici Movimento, organizzatrice della Due Giorni di Appuntamenti, Francesco Bellomo, che ha spiegato anche il motivo per cui è stato scelto di recuperare il termine briganti per la manifestazione. In una rivoluzione ideologica del risorgimento italiano si può pensare che il brigandaggio sia stata la resistenza vera del regno borbonico, ma al di là di eventuali affermazioni storiche è importante pensare che nel Sud Italia in modo particolare negli ultimi anni si sono perse molte maestranze a discapito proprio del lavoro. Quindi è più facile trovare lavoratori generici, ma soprattutto è difficile trovare gli artigiani. Forse dovuto anche un po' a delle politiche nazionali dove si è pensato soltanto ad incentivare alcune fasce rispetto ad altre. Ecco, l'intento della nostra associazione è quello di aprire questo tipo di dibattito. A relazionare sul tema il lavoro nel Vallo di Liano dal 1800 ad oggi, antiche certezze e prospettive di nuovo sviluppo moderato dall'avvocato Giuseppe Lanocita, oltre all'onorevole Severino Nappi, il vice sindaco di Atena Francesco Manzolillo, Denis Nesci, presidente nazionale Udicon e Benedetto Di Iacovo, segretario nazionale Confial. Il lavoro cambia, cambia repentinamente, c'è uno smarrimento totale perché le istituzioni, soprattutto anche quelle scolastiche, non vanno orientamento alle facoltà e naturalmente anche ai mestieri perché non necessariamente una laurea significa l'opportunità di lavoro. Oggi il lavoro si crea se c'è impresa, se c'è una interazione fra il sistema istituzionale, il sistema delle imprese, il sistema universitario e quindi quell'idea della transizione scuola-lavoro diventa ancora di più importante. Questo territorio le condizioni ce le ha. Sabato scorso a Caggiano si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all'attore indiano Kabir Bedi, un encomio che però nel passaggio in Consiglio Comunale ha visto il voto contrario della minoranza guidata da Angelo Lorusso. Per l'opposizione mancavano le motivazioni minime per la concessione dell'importante encomio. Kabir Bedi da sabato scorso è cittadino onorario di Caggiano, anche se con voto contrario in Consiglio Comunale della minoranza guidata da Angelo Lorusso. La decisione pare fosse già stata annunciata con la scelta della data della cerimonia fissata sabato 27 luglio, vista la partecipazione del noto attore indiano a Maratea per le giornate del cinema lucano, premio internazionale Basilicata. Tutto deciso quindi, seppur mancava ancora il passaggio in Consiglio Comunale. Questo è uno dei motivi del voto contrario della minoranza al riconoscimento della cittadinanza onoraria. Non sono ben note, peraltro, le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale guidata da Modesto la mattina a concedere l'encomio. Secondo quanto sarebbe emerso nel corso del Consiglio Comunale dello scorso 23 luglio, pare che la decisione sia stata adottata sulla base di un passato che ha visto il comune di Caggiano legato all'India per la presenza di altre personalità indiane e per la venuta dell'attore lo scorso anno con la sua troupe, dove peraltro è stato anche ospite a spese dell'amministrazione comunale. In tale occasione si è repotizzata la scelta di Caggiano come futuro luogo di riprese di scena, cosa però che a quanto pare non è ancora avvenuta. Per l'opposizione si è trattato di una trovata propagandistica che però sminuisce il valore dell'encomio. Angelo Lorusso inoltre evidenzia come le due presenze dell'attore a Caggiano siano avvenute entrambe in concomitanza con altri appuntamenti organizzati in località vicine a Caggiano. Il nostro gruppo, spiega, in maniera unita e compatta si è espresso negativamente per due motivi. Innanzitutto perché abbiamo ritenuto inaccettabile che la decisione sia stata assunta fuori dal Consiglio Comunale e antecedentemente senza che il consenso si fosse ancora espresso in merito. Riteniamo questo comportamento obliterante nei confronti del Consiglio. Inoltre, continua Angelo Lorusso, non abbiamo riscontrato le motivazioni minime e necessarie affinché un atto di questa portata sia valorato. Motivazioni quali impegno o opere che lo legano al nostro Paese, iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropiche che, con tutto il rispetto per il signor Bedi, non ha mai apportato alla nostra comunità. Implementazione della raccolta differenziata e contrasto all'abbandono dei rifiuti. Per raggiungere questi due obiettivi, il Comune di Montesano sta offrendo ai cittadini una serie di servizi, incontri pubblici, consegna gratuita di secchielli e buste e ha anche attivato in via sperimentale l'isola ecologica itinerante. Sempre più servizi offerti ai cittadini di Montesano sulla Marcellana in risposta alle loro esigenze e a tutela dell'ambiente. Dopo gli incontri pubblici informativi sul nuovo calendario per il porta a porta che si sono tenuti nelle varie località del territorio comunale in questo mese di luglio, parte oggi la consegna gratuita dei secchielli e delle buste per la raccolta differenziata. È possibile ritirarli in determinati giorni e luoghi indicati secondo il manifesto che sta girando. E sempre da oggi parte un esperimento senza costi per l'ente, il servizio di isola ecologica itinerante. Le isole ecologiche itineranti sono aree del paese dove in giorni e orari prestabiliti è possibile conferire rifiuti. A Montesano il giorno scelto è l'ultimo lunedì del mese, per tre mesi fino a settembre. Gli orari cambiano da zona a zona per garantire infatti una totale copertura del territorio comunale. La cittadina è stata suddivisa in sei zone e per ognuna sono stati individuati dei punti di collocazione. Il servizio riguarda la raccolta di rifiuti urbani differenziati e si rivolge a chi non è riuscito per ragioni serie a consegnare rifiuti in orario per il porta a porta, a chi ha roba che non può essere consegnata durante la settimana, a chi ha particolari esigenze perché magari sta partendo e è appena arrivato, a chi sta pulendo seconde case o simili o ancora a chi ha poco spazio per mantenere i rifiuti dentro casa. È un'iniziativa sperimentale pensata per migliorare la raccolta differenziata, anche se i risultati raggiunti sono già ottimi, assicura il sindaco Giuseppe Rinaldi, e per contrastare il fenomeno sempre attuale e urgente dell'abbandono dei rifiuti. Nell'aula consigliare Nicola Costa a Sant'Arsenio, mercoledì 31 luglio alle ore 18, sarà presentato il centro di ascolto Punto A. Dopo i saluti del sindaco Donato Pica, interverranno Vincenza Marino del gruppo Logos, Tina Lettieri di Arcat Campania, Annibale D'Angelo del CERD 4, Ennello Basilice, responsabile del progetto centro residenziale per addiction e disagio psichico, sarà presentato il centro di ascolto e l'equip di lavoro. Andiamo avanti, c'è in questo periodo estivo un incremento delle attività da parte della Polizia di Stato, controlli straordinari a tappeto nelle principali località balneari della provincia di Salerno. Nell'ambito del rafforzamento delle attività di controllo del territorio per la stagione estiva nelle principali località balneari della provincia di Salerno, la Polizia di Stato ha effettuato nello scorso fine settimana, nei comuni della fascia costiera sud del capoluogo, una serie di controlli straordinari per la prevenzione dei reati in generale. L'attività è stata svolta da pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia con l'ausilio di personale della Polizia di Stato di rinforzo per la stagione estiva e il supporto di pattuglie delle polizie locali. Gli agenti hanno effettuato numerosi posti di controllo che hanno portato all'identificazione di 100 persone, di cui 7 con a carico precedenti penali e 12 stranieri, controllati anche 62 veicoli e motoveicoli. Sono state elevate inoltre 11 contravvenzioni al Codice della Strada, di cui 3 con la sanzione accessoria del sequestro amministrativo dei veicoli, risultati sprovvisti della prescritta copertura assicurativa. Questa sera a Padula, presso il Convento di San Francesco, si terrà un incontro per tracciare un bilancio delle attività di integrazione svolte dalle cooperative sociali attive sul territorio. Un evento che sarà anche occasione per raccogliere i 6 minori non accompagnati giunti nel Vallo di Diano attraverso i corridoi umanitari dalla Libia. Dall'agosto di 8 anni fa il Vallo di Diano è il luogo di accoglienza per i migranti attraverso i corridoi umanitari nell'ambito del sistema di protezione internazionale. Le cooperative impegnate nel settore dell'accoglienza hanno quindi deciso di organizzare per questa sera un appuntamento in cui sarà anche tracciato un bilancio delle attività a favore dell'accoglienza dei migranti. Alle ore 20 il chiostro del Convento di San Francesco a Padula ospita l'appuntamento Uomini in Cammino, promosso dalle cooperative sociali Il Sentiero, Terzium Millennium, e l'opera di un altro per incentivare verso una riflessione sull'accoglienza attiva nel Vallo di Diano dal 2011. Oggi, fanno sapere gli organizzatori, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fa capo soprattutto al progetto SPRAR attivo dal 2017 con la titolarità del Comune di Padula quale ente capofila insieme ad Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Polla e Sassano. Un cammino condiviso da enti locali, terzo settore, mondo della scuola e dell'imprenditoria che ha collezionato, continuano in pochi anni, una miriade di buoni prassi e di modelli di inclusione con inserimenti scolastici negli istituti superiori del territorio, percorsi di tirocini formativi e successivi inserimenti lavorativi, attività di animazione e socializzazione, volontariato presso il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla con il progetto Il Sorriso non ha colori, laboratori artistici per il restauro del portone della Casa Museo di Gioe Petrosino a Padula e del portone della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Atena Lucana. Ad aprire la serata, saluti del sindaco di Padula Paolo Imparato e di Don Vincenzo Federico, successivamente la proiezione del video Uomini in Cammino realizzato nelle strutture di accoglienza con le testimonianze dei ragazzi e di alcuni amministratori locali tra cui il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi, il vice sindaco di Atena Lucana Francesco Manzolillo e l'assessore alla cultura di Padula Filomena Chiappardo. Interessante poi l'intervento dell'antropologo salernitano Paolo Apolito. L'evento, oltre a presentare alcune testimonianze di giovani che sono riusciti ad integrarsi sul territorio dopo il loro arrivo, è anche occasione per festeggiare l'arrivo di altri sei minori stranieri non accompagnati giunti in Italia attraverso i corridoi umanitari della Libia. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio, andiamo a Teggiano, è stato presentato in una serata speciale ieri presso il locale La Dispenza nel centro storico il nuovo cocktail preparato a base di Lux Dianensis. Ieri sera a Teggiano nel centro storico dove è presente il suggestivo locale della Dispenza è stato presentato, grazie anche alla speciale presenza del barman del Trianon City Bar, il nuovo esquisito cocktail Lux che prende il nome dall'ingrediente principale utilizzato nella preparazione, quale il Lux Dianensis a base di mirtillo con fichi bianchi e ovetta sultanina dedicato a San Cono. Un'occasione anche per presentare quella che è la ricca varietà degustativa del locale La Dispenza dove l'Amaro Teggiano è tra le primarie attrazioni ed il suo gusto sta acquisendo sempre maggior considerazione anche fuori dai confini territoriali. Un'offerta che si è ora ampliata con la proposta del nuovo liquore Lux Dianensis che come sottolineato da Enzo Sorbo, titolare della Dispenza e produttore dell'Amaro Teggiano è particolarmente duttile ed adatto alla realizzazione di numerose cocktail oltre che gustosissimo anche da solo. Oltre l'Amaro Teggiano abbiamo realizzato altri due liquori uno si chiama Signore Didiano che è simile all'Amaro Teggiano è un po' più strong al sapore e poi abbiamo questo qui Lux Dianensis che è un liquore al mirtillo con uvetta sultanina e fichi bianchi del Cilento che abbiamo dedicato a San Cono. Molto piacevole, molto versatile tant'è vero che oggi abbiamo lo staff del Trianon City Bar realizzato un buon cocktail a base di questo Lux Dianensis che a breve vi andremo ad illustrare. Hanno aggiunto la vodka e il lime come mix, come shaker io l'ho assaggiato in anticipo, a me è piaciuto tanto ovviamente sono di parte, poi toccherà a voi degustarlo sia qui quando faremo delle serate ulteriori e sia al Trianon City Bar dove è stato realizzato questo cocktail. Lux Dianensis è già nato insieme all'Amaro Teggiano nel 2014 però abbiamo preferito non pubblicizzarlo più di tanto anche perché essendo dedicato ad un santo ci dispiaceva far passare un messaggio di pubblicità come magari succede talvolta in giro. L'omaggio a San Cono infatti è nato in occasione del tricentenario della strada di San Cono del 2014 abbiamo deciso di fare questo omaggio al santo e abbiamo dedicato un liquore dolce, un liquore soave come per i tegianesi San Cono. Abbiamo creato questa piccola presentazione poiché a noi fa sempre piacere quando ci sono delle attività che pensano a noi ci fa piacere quando decidono di ideare qualcosa di bello con i prodotti del territorio molte volte ci sono tanti locali che vanno sul classico vanno sul commerciale quando si punta, non solo parlando dei nostri prodotti ma in generale dei prodotti artigianali si punta a valorizzare il prodotto artigianale è sempre bello, sia per il territorio sia per noi. A dicembre abbiamo inaugurato la dispensa di casa Maroteggiano che oltre ad ospitare la Maroteggiano i luxianensis, il signore Didiano e i vari derivati che facciamo attorno a loro ospitiamo tante eccellenze del Vallo Didiano campane e lucane essenzialmente da lì abbiamo modo di farle anche degustare attraverso il famoso apericena alla sera, a pranzo semplicemente facciamo una bella selezione ci stiamo divertendo tanto a selezionare questi prodotti e stiamo accogliendo sempre più eccellenze giorno dopo giorno ovviamente ci vuole tempo, ci vuole pazienza piano piano cercheremo di fare tutto Fino a domani sera sarà possibile degustare l'ottimo caciocavallo sassanese con l'ormai consolidata festa promossa dall'associazione I Ragazzi di Cagliazzano che ogni anno nei giorni 27, 28, 29 e 30 luglio offre la possibilità di degustare squisite specialità locali di qualità garantita questa sera oltre al divertimento con la musica anche l'arrivo della special guest star Angel Showman Continua fino a domani sera 30 luglio la festa del caciocavallo sassanese che per le prelibatezze offerte nel ricco e variegato menu ogni anno attira migliaia di visitatori con la piazza antistante la chiesa di San Gaetano a Cagliazzano di Sassano gremita per tutte le quattro sere di festa data ormai fissa da 18 anni dal 27 al 30 luglio l'associazione I Ragazzi di Cagliazzano sono impegnati nel loro primario obiettivo di offrire cibi e specialità di qualità garantita e controllata e dal sapore unico questa sera e fino a domani sera quindi ancora tanto divertimento a Cagliazzano di Sassano per la 18esima edizione della festa del caciocavallo sassanese che oltre a tanto buon cibo offre anche numerose opportunità di divertimento oltre alla musica e al ballo questa sera in particolare serata di divertimento con la presenza speciale di Angel Showman vincitore della terza puntata di La Corrida il programma RAI condotto da Carlo Conti naturalmente protagonista assoluto della festa resta comunque il caciocavallo che da quest'anno è possibile degustare anche nella speciale varietà di caciocavallo crusco restano poi confermate le ormai note varietà di arrostito classico con pancette e funghi e impanato il menu scelto dai ragazzi di Cagliazzano è comunque particolarmente variegato oltre alle diverse specialità di caciocavallo è possibile anche gustare ottima carne locale di qualità garantita pasta fresca con il sugo preparato come una volta così come lo spezzatino servito caldo e cucinato seguendo la più tradizionale e garantita metodologia di cottura dallo scorso anno si è poi aggiunto o con successo il calzone fritto servito caldo come calde sono servite anche le squisite zeppole il cui impasto viene lavorato al momento per servirle calde e fragranti una perfetta macchina organizzatrice che lavora per assicurare sempre l'offerta di cibo squisito dal sapore unico e di qualità garantita e attentamente controllata tutte caratteristiche che hanno consentito alla festa del caciocavallo sassanese di confermare negli anni il grande successo e l'intensa partecipazione con visitatori provenienti da ogni parte della provincia di Salerno andiamo a Polla che è pronta ad accogliere nei suoi vicoli la settima edizione di Restate Ragazzi dell'Associazione I Ragazzi del Ponte si parte venerdì 2 agosto Gastronomia, cultura, musica, storia e arte torna a Restate Ragazzi la manifestazione estiva organizzata dall'Associazione I Ragazzi del Ponte che ogni anno a seconda del tema scelto celebra radici e tradizioni il tema di quest'anno è i giochi di una volta come di consueto sarà sviluppato attraverso momenti di confronto e allestimenti dedicati Polla è pronta ad ospitare la settima edizione di Restate Ragazzi si parte venerdì 2 agosto fino a domenica 4 e anche questa volta come le precedenti la Kermess attirerà nel centro storico migliaia di persone organizzata dall'Associazione del Presidente Federico Curcio racchiude tre percorsi ad aprire le serate presso la Chiesa di Santo Nicolicchio quello culturale con convegni riconoscimenti mostre fotografiche presentazioni di libri e proiezioni di corti a seguire il percorso culinario nei vicoli del centro storico e tra i buttari con il recupero di piatti tipici e prodotti a chilometro zero e quello musicale diversi concertini all'aperto con artisti di talento tra i momenti più attesi anticipano dall'Associazione Ragazzi del Ponte quello del 4 agosto quando verrà ricordato a vent'anni dalla morte Josy Roccamonte curato dal giornalista storico Giuseppe D'Amico e la cerimonia di inaugurazione del 2 agosto con l'apertura della scatola virtuale Partito sabato è in corso a Sant'Arsenio il campus musicale e dello spettacolo organizzato dall'Associazione Due Volti della Luna tra novità e ospiti d'eccezione si stanno susseguendo lezioni con grandi maestri del settore e audizioni non mancano spettacoli musicali live nello scorso fine settimana abbiamo raggiunto Sant'Arsenio e intervistato alcuni dei tanti protagonisti dell'appuntamento che si presenta ancora una volta come un punto di incontro tra professionisti della musica e dello spettacolo e aspiranti artisti facilitato dall'impegno e dalla passione di Gerardo Costa e Vittoria Bembenka che infaticabili continuano a creare occasioni di confronto e crescita per i talenti e per il Vallo di Diano che puntualmente grazie a loro si trova ad ospitare esperienze simili abbiamo raggiunto nuovi volti come Franco Fasano Claudio Miceli e altri si aggiungeranno a questo team di maestri l'unica cosa che è bella positiva è che noi siamo partiti ad aprile e niente a luglio si sono raddoppiati gli iscritti dei ragazzi ragazzi che vengono da tutte parti d'Italia quindi davvero una cosa bella positiva speriamo che un po' alla volta prenda piede questo nostro bello progetto io mi auguro che vada avanti perché i ragazzi hanno bisogno di queste formazioni la novità bellissima di in questo campus mentre in altri centri di formazioni i ragazzi arrivano si esibiscono con le basi noi qui il live la sera e il serato lo facciamo dal vivo e non è facile perché il gruppo deve imparare i brani al momento ed è difficile è difficile però siccome ci sono dei professionisti veri musicisti veri quindi poi tutto passa in secondo piano è una manifestazione voluta fortemente da Gerardo Costa e da Vittoria Benvenga un grande sforzo perché i ragazzi sono tanti le canzoni sono tantissime e siamo gli unici credo comunque in tutta Italia a fare una cosa live quindi i ragazzi non suonano con le basi è un impegno veramente molto importante ma lo facciamo con una volontà ferrea e ce la faremo il campus è già la seconda volta che lo faccio come insegnante come vocal coach e sono sempre più entusiasta di questo progetto perché è veramente bello è veramente bello vivere i ragazzi tre giorni farli vivere di musica aiutarli a crescere artisticamente quindi sono molto contenta di far parte di questo staff di questa realtà i ragazzi stanno facendo un percorso musicale tecnico sia dal punto di vista vocale l'approccio sugli negli l'approccio proprio sugli stili fanno anche recitazione dal mio punto di vista ho visto già una crescita ho potuto notare già una crescita dal mese di aprile e quindi credo che Vittoria Gerardo Lorella Luca li chiamo per nome hanno messo su qualcosa di incredibile in un piccolo paese dove credo che stia diventando un punto di riferimento anche perché qui i ragazzi possono solamente studiare quindi sono chiusi con noi nelle aule ho visto persone di Pianeta Rento e quindi penso che qualcuno di loro ce la possa fare che nella loro vita artistica potrebbe diventare potrebbe diventare un nome dal punto di vista professionale proprio innanzitutto sono sono innamorato di questo paesino perché già ho visto che si sta freschi a fine luglio agosto stare in questo paesino già significa stare senza aria condizionata è un bel posto poi vediamo che cosa succederà io conoscerò attraverso questa questo campus musicale organizzato dai due volti della luna conoscerò questi ragazzi io devo dire che sono affezionato a queste parti perché intorno agli anni 90 ho fatto tanti concerti da queste parti è tutto per questa edizione vi ringrazio per l'attenzione e buon pomeriggio